Gentili telespettatori, buona giornata. Che cosa pensano gli italiani delle ONG? Vanno bloccate, non vanno bloccate, vanno favorite, eccetera eccetera. Un italiano su due è d'accordo con la linea del governo. È giusto impedire lo sbarco indiscriminato dei migranti. Il centrodestra viene premato anche sul reddito di cittadinanza e super bonus. Vediamo un po' che cosa dice termometro politico proprio in queste ore. Un sondaggio che viene fatto settimanalmente. Dalla rilevazione si legge che la maggioranza degli italiani, quindi la maggioranza assoluta, 50,7%, ritiene giusta la scelta di impedire lo sbarco a una parte delle persone che si trovano a bordo delle navi ONG. Il 30,5% valuta positivamente la decisione, ma chiede che gli sbarchi siano completamente bloccati e che eventuali domande di asilo siano esaminate fuori dal nostro paese. Per il 20,2% è giusto che sia concesso di scendere a terra solo ai veri rifugiati, altrimenti si rischia di alimentare l'illegalità. Il fronte del no vede un 28,6% che sostiene che sarebbe doveroso far sbarcare tutti e solamente dopo procedere all'espulsione verso il paese di origine di chi non ha diritto d'asilo. Però questo 28,6% non sa che poi non puoi mandare più nessuno indietro, perché i paesi di origine dicono noi non sappiamo niente, non vogliamo niente, non conosciamo nessuno perché non ci sono accordi con i paesi di origine. Quindi non puoi dire ti rimando 20 persone, 100, 1000 perché il paese di origine fa orecchie da mercante. Quindi a quel 28,6% che sostiene si fanno sbarcare e poi chi non ha diritto va rimandato indietro, questo 28,6% probabilmente non sa quello che vi raccontavo prima. Ma il dato più interessante è che il 18,7% crede che sia necessario accogliere tutti, senza alcuna distinzione, l'importante è arrivare davanti l'Italia e devono entrare tutti. Questo si potrebbe anche fare con gli aerei, con via terra, chiunque arriva al confine italiano può entrare. È una visione un po' curiosa che negli altri paesi non hanno, né a destra né a sinistra, non ci sono paesi in Europa che pensano questo. 18,7% è tanto, 18,7% quasi una persona su sei in Italia crede che l'Italia dovrebbe far entrare chiunque si presenti davanti la porta. È decisamente incredibile, cosa che non esiste in nessuna parte d'Europa. In nessun paese c'è una percentuale di questo tipo che pensa che si possa entrare nel proprio paese solo per il fatto di presentarsi davanti. Comunque viene smontata la narrazione della sinistra, secondo cui il governo italiano starebbe portando avanti una politica contraria al pensiero degli elettori. Dicono che Meloni l'hanno votata il 26, ma quel 26 era sulla metà degli aventi diritto e il totale degli aventi diritto non sono certo 60 milioni, quindi l'hanno votata in pochi alla fine. In realtà la maggioranza assoluta degli italiani la pensa esattamente come il governo italiano. Anche a sinistra tanti la pensano esattamente come il centro-destra. Intanto, cosa ne pensano sul reddito di cittadinanza? Potrebbe essere revocato da alcuni, forse un giorno, forse mai, forse dei corsi, chi lo sa. Il 19% dice che andrebbe eliminato in ogni caso. Il 34,1% vorrebbe toglierlo a quelle condizioni. Alle condizioni del... non si capisce bene a quali condizioni. Il 38,4% è d'accordo a qualche modifica, ma ci tiene a rivendicare il diritto di rifiutare un'offerta se paga e mansioni non sono dignitosi, che è giusto. Il 7,8% è contrario alla revoca alle condizioni citate. Ecco, vediamo che anche qua la stragrande maggioranza degli italiani è per la cancellazione o per delle condizioni completamente diverse. Quindi anche qui la narrazione è diversa da quella che racconta la sinistra. In effetti il 7,8% è contrario alla revoca, corrisponde più o meno agli italiani che hanno il reddito di cittadinanza. È chiaro, no, la percentuale. Mentre sul super bonus il 60,4% pensa che vada solo modificato e non cancellato. Il 17% vorrebbe toglierlo completamente, il 19,3% crede che debba restare così com'è. Il 3,3% non sa, non intende rispondere. Quindi sul super bonus gli italiani sarebbero contrari. Un super bonus che avvantaggia pochissime persone e ha un costo spaventoso per il governo in termini di euro e anche in termini di truffe ai danni dello Stato. Non riesco a capire come gli italiani siano favorevoli a un meccanismo di questo tipo che ha portato un buco di 38 miliardi e truffe per 7 miliardi per beneficiare poche persone a scapito dei conti dello Stato. Si vede che c'è una propaganda su questo super bonus che realmente non rende giustizia a quello che è questo strumento. Poi il termometro politico fa sapere che queste interviste sono state fatte tra l'8 e il 10 novembre 2022 contattate 4.000 interviste raccolte. Quindi non 4.000 telefonate ma 4.000 persone che hanno voluto rispondere a queste domande. Si sono rese disponibili al sondaggio DTP termometro politico che chi è sul canale da un po' sa che è un sondaggio che io ogni settimana vi racconto insieme anche a tutti gli altri sondaggi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che c'è poi anche Tele Italia che è il canale principale con 18 video al giorno e poi c'è anche In Cucina con Carla che è il canale di mia moglie di cucina. Questi video poi vengono condivisi sulla pagina di Facebook che si chiama Tele Italia in modo che lì se vi sono interessati li potete condividere con chi volete. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Questo è l'unico video che c'è ogni giorno su Tele Italia Seconda Rete però vi invito a cercare anche Tele Italia che è l'altro canale dove troverete anche lì molti più video. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo presto. Grazie a tutti.